Lascia un mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Durante il suo chiarimento con Charlie, Antonino comincia a parlare della sua antipatia nei confronti di Nikita e della loro discussione nel corso della puntata. La modella è a pochi metri da loro e sentendosi tirata in causa, interviene nella questione per dire la sua. Tu mi hai tirato in mezzo, udici Antonino, parlando del rimprovero di Nikita che si è detta dispiaciuta della sua risata in seguito al gesto fuori luogo di Ele Noir. Io non ho visto altre persone ridere tranne te e ribatte la modella, spiegando il motivo per cui tra tutti se l'è presa proprio con lui. Antonino si sente preso di mira da Nikita e ci tiene a farle notare che anche se lui avrebbe potuto approfittare dell'intervento di sua madre per mettere in discussione la sua sincerità e darle contro, ha scelto di non farlo per galanteria e puro disinteresse. Tua madre mi ha fornito su un piatto d'argento una possibilità per darti contro ma non l'ho fatto. Sono rimasto in silenzio. Nikita, d'altronde, non vede per quale motivo Antonino avrebbe dovuto intromettersi nelle sue questioni familiari e continua a ribadire di essere rimasta male della risata del coinquilino di fronte al gesto poco carino di Ele Noir. I due sembrano non riuscire proprio a trovare un modo per andare d'accordo e neanche l'intermediazione di Luca e di Antonella serve a farli conversare in modo pacifico. Al gruppo che discute animatamente si aggiunge anche Alberto che prende le parti di Nikita, convinto che lei avesse tutto il diritto di risentirsi con lui per la sua risata inopportuna. Antonino, però, ci tiene a specificare di aver già chiesto scusa per quello e di essersela presa piuttosto per i costanti tentativi di Nikita di metterlo in cattiva luce e dargli contro. Insomma, tra i due non sembra esistere la possibilità di andare d'accordo. L'antipatia reciproca è tale da impedire ai due di capirsi e, come dichiara la Nikita, quando a testa antipatica una persona, qualsiasi cosa questa faccia la vedrai sempre in maniera negativa. Grazie per la visione! Iscriviti al canale e attiva la campanella, per noi è importante! Resta sempre aggiornato!